e salva a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video ragazzi finalmente la season 5 è arrivata così tanto attesa è arrivata e ragazzi ragazzi pinnacoli pendenti è ritornata nella nostra mappa cioè forse voi non avete capito pinnacoli pendenti che va bene ok non è sicuramente come la vecchia pinnacoli ma ragazzi è una grande parte della vecchia pinnacoli che è tornata nel gioco e io sono felicissima come sono sicura che molti di voi sarete felici di questo grande ritorno di pinnacoli a tal proposito ragazzi vi volevo domandare e magari appunto fatemelo sapere qui sotto nei commenti qual è la cosa la città o l'oggetto o l'arma insomma che è ritornata nel gioco e che vi ha reso veramente felici per quanto riguarda me è pinnacoli pendenti e per quanto riguarda l'arma è la k47 io ragazzi non potevo chiedere di meglio cioè sono veramente molto 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 felice si prospetta una season molto divertente e ricca di contenuti infatti proprio per questo motivo perché sono sicura che la season sarà molto molto interessante vi annuncio già da adesso che usciranno veramente una marea di contenuti sul mio canale e mi troverete ovviamente anche in live streaming su twitch tutti i giorni dalle 16 fino all'una di notte dove ovviamente come sapete per chi mi segue da più di tre anni streamo tutti i giorni per almeno 9-10 ore al giorno e mi troverete a giocare la gran parte del tempo fortnite e poi insomma altre cosine quindi se non volete perdermi le mie live trovate il link della mia live streaming qui sotto in descrizione stessa cosa per quanto riguarda il mio profilo di instagram dove vi tengo aggiornati su determinati news o comunque anche solo se volete farvi fatti miei trovate anche il mio instagram qui sotto in descrizione inoltre ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale lasciate un bel pollicione in su e attivate la campanellina così che vi arrivi la notifica ogni qualvolta che pubblico un video anche perché non usciranno veramente tanti quindi rimanete sintonizzati come ovviamente sapete nuova season equivale nuova pass battaglia che peraltro devo dire che è molto interessante infatti io l'ho acquistato immediatamente se ho acquistato il pass battaglia o qualsiasi altra skin e volete supportarmi potete farlo utilizzando il mio codice creatore che sarebbe appunto il mio nickname ovvero curatomist taggatemi anche su una vostra stories su instagram che io vi ricondividerò tutte le vostre stories di voi che utilizzate il mio creator code ma adesso ragazzi non perdiamoci in chiacre e andiamo a vincere l'ombrellino e a riconquistare la nostra pinacoli pendenti la regina è ritornata nella sua città una buona visione ragazzi Bella mira, bella mira, wow Ne ha ucciso pure Non solo la minocca Tira le nette, mi fai esplodere casa Noi, sui mare Rivedremo barchetta Non ammazzo Oh, cavolo No, la mia marca è sempre a terra, Seva Come è possibile? Una volta è più bravo Questo là è rimasto laserato Non l'avevo build perché ero appena atterrato Una volta eri più bravo Ormai hai perso quel fascino Del gladiatore Sì, ora ora Ah, come si build a venti, sono quattro ragazzi così Pure alla volta Proprio come la sorella No Sono la dico Lo c'è sempre Lo cito con la pistola, lo cito Troppo forte, questo è il problema C'è la mia skill e troppe le mattini E neanche la capa mi hai lasciato Sì, sono lasciato, cioè Vabbè, ci siamo Stendiamo a prendere pure qui Mamma mia, se sono una ragazza felice, ti giuro Ma ti pare normale che sfondi garage così? Vabbè che l'ho pagato sto garage In quanto? Oh, barca, barca, barca Mannaccia, chi dico io? Che c'è? Dai, vieni, vieni, vieni Eh, io li sto tippando Oh, perché vedo una cosa per parlare? Pure io, anche io Ora vado a vedere Ovviamente dillo che stavi scherzando Eh, l'ha detto già che stavo su me Morso di tutti, barca, tranquillo Sei molto utile come sempre In quanto veramente le due doti sono incredibilmente inutili Elimina player Iron Man Cake Dove faccio a... Gente, 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 gente Ah, lo puoi assolvare ma la costa 80 Barca, barca Stai che l'ha soldo? Ah, no, 100 ti serve Barca, 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 fatti i mini Fai l'impulso No Questa parola si mette uno snap, te lo dico Comunque sei proprio scarso Una volta eri veramente forte, ora sei proprio... Allora, vorrei andare alla nevicella di Star Wars Ma sono sicura che tanto l'avranno già preso Tu che dici? Boh Affogniamo nella sabbia, andiamo più veloci in teoria Ok, senza in teoria Con shift si corre L'ora vada solo Ma non mi diventa, è veloce Ti dice, è più veloce la... Uh, guarda ma Oh, c'è... Ma va bene, ok Non ho più vita Non ho cura Ok, tranquilla, tranquilla, tranquilla Ma non pusciarlo per la barca, scusami Non fai un catete, sto seguendo No, no, vieni qua, vieni qua Boxati, boxati Tieni 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 No, ma è bianco perché ti vedo Non fammi finire, per favore Oh, c'è le Mandrake qua Sì, mi dà una mano, Mandrake Gli ha fatto male però il mio Pancake, eh Gli ha fatto... L'ha craccato, mi sa Non sono una benda Non mi serve una benda Ah, prima me lo sfondiamo, ok Aspetta, aspetta Sono pronta Vai Ok, mi cura, mi cura, mi cura No, fammi curare Anzi, facciamo una bella cosa Sono mia Tieni Tieni Te la lascio morire Vabbè, raccomando Ti vorrei fare tutte le kill, va bene? Dammi però lo scritto Ora davide che c'ho Bimo, nudellina Sinza sosse Oh, 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 oh ending C'è uno sotto la sabbia Lo vedo? E' uno anche fuori Bimo 31, 18, 18, 18 38, 22 Noccato Sotto di te Sotto di te No, l'ho visto, vero Vai Guardate, tu, è tu Allora, puoi ammassarlo? Lai per scappato, perché? No, io voglio chiedere Ma che cosa? Pescio rift, mi sa che c'ho Serio? Pesce fenditore, sì Oddio Vabbè puoi usarlo per me ora Aspetta abbiamo trovato una cecchinata Ah eccola guarda lì Vabbè io lo Prendiamoci la casa Sono sceldone fattelo tu Ah è la minaccia 3 33 in testa Ma non sei tu dentro casa No c'è uno sotto però Sì vedi 44 Ma da madrick Butto le nail sotto Uscito ancora Uh 200 ha fatto il pavà Mi devo coprire Eccolo Sì 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 No no grazie Prego prego C'è C'è Surve una cure Cure di prova a restarmi ce la fai però faccio la band faccio il box in ferro non ci credo ma questo sta camperando comunque c'è questo camper ava dietro gli angoli prima il tizio la cecchina dio fatto 110 per la sicura noi non abbiamo cure comunque c'è un problema questo non mi dire che sono lì sopra si era verso la direzione dove è pingato però non so se stanno l'azione si è buttato uno quella torre a un nord dove si sono buttato io sono dietro scudi avevo ragione sono a nord no non possiamo ok lo vedo l'altro era un coso di sabbia 100 per cento 110 33 33 di nuovo vabbè spaccoli spaccoli 86 aspetta fai farì ok no ok là è l'ultimo voglio fare un trickshot faccio anch'io che riesco al cerchino 105 l'ho boxato non è ma scasso nooo l'hai fatto tu l'ho preso di cerchino no e di ad non è fortissimo sto cerchino mia ti giuro veramente forte sai che non scopo sono precisi eh perché io sono fermato l'ho mirato il cerchino nuovo in uno scopo è precisissimo non ho ancora testato volevo fare il trick però sai qualcuno mi ha rovinato il divertimento prima nutella figi